questo video dimostro che riempio con l'acqua osmotizzata quindi l'acqua depurata di ogni impurità riempio la vaschetta fino alla tacca mi raccomando devi farlo assolutamente con la presa scollegata poi vado a collegare la presa di corrente ok e emetto il vassoio il vassoio con i semi adesso qui sto iniziando il raccolto di germogli di fagioli omung mancano due vaschette perché le ho tolte qui abbiamo una copiosa e abbondante crescita di germogli qui siamo al sesto giorno e i germogli come vedi sono almeno sei centimetri direi e oggi li mangerò in insalata qui ne ho degli altri e poi ho dei semi di peperoncino che sono germogliati anche loro quindi quelli di userò da piantare nell'orto quindi ho qui la cannuccia che serve per l'irrigatore e ho il ventolino che serve a irrigare ok dopo aver aggiunto l'acqua nuova i fagioli nuovi per il germogliatore vado a far partire con il programma 1 che funziona per 5 minuti ogni 30 faccio partire il programma e i fagioli mung sono pronti per la germogliazione adesso nei prossimi giorni seguiremo la crescita dei fagioli mung qui dentro a germoglio il germogliatore automatico di semi